Peter Polverini è un soggetto con elevata capacità delinquere. Il delitto di Katia, aggredita con ferocia prima pugni, poi con un martello, è considerato particolarmente violento e cruento. Sono state rese note le motivazioni racchiuse in 19 pagine che hanno portato alla sentenza di condanna per il 25enne San Giustinese, che sta scontando 16 anni di reclusione in carcere per l'omicidio della quarantenne ritrovata senza vita il 12 luglio 2016 sul greto del torrente Afra a Sansepolcro in provincia di Arezzo. Il GIP del Tribunale di Arezzo per Giorgio Ponticelli ha infatti depositato le motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 10 luglio. Per il giudice l'omicida della donna è al di là di ogni ragionevole dubbio Peter, ad inchiodarlo elementi schiaccianti di colpevolezza come il test del DNA, le testimonianze video ed infine la confessione fatta dallo stesso 25enne. A pesare su Peter anche i comportamenti messi in atto dopo l'omicidio se ne andò senza assicurarsi se Katia fosse già morta, getto via l'arma del delitto un martelletto e non confessò l'omicidio ai carabinieri quando fu ascoltato come testimone. Il giudice per questo ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche prevalenti. Al 25enne era stata invece contestata l'aggravante della minorata difesa annullata dallo sconto di pena per la semi-infermità mentale. C'è da verificare qual è stato il ragionamento che ha seguito il giudice nel valutare equivalente l'aggravante con l'attenuante che poi era quella sulla infermità. Queste motivazioni sono i punti che credo dovremo approfondire nella impugnazione che andremo a fare. Infine per effetto del rito abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena si è arrivati alla condanna inflitta e al risarcimento alle parti civili. La difesa del giovane ha già annunciato ricorso in appello. Abbiamo il termine per presentare i motivi e venremo di far rifruttare questi giorni che abbiamo per lavorare.